Buongiorno e ben ritrovati a un appuntamento con l'informazione su Telefriuli. La richiesta al Governo di intervenire con un'azione mirata e tempestiva al fine di bloccare i flussi migratori in entrata lungo i confini con la Repubblica di Slovenia, la conferma dell'impegno assunto dalla Regione a rendersi parte attiva per le materie di propria competenza nelle politiche di contrasto alla diffusione del Covid-19, in particolare nel massimo contenimento dei focolai originatesi da situazioni di manifesto e illegalità. Sono questi i contenuti della missiva inviata dal Governatore del Friuli Venezia Giulia al Presidente del Consiglio. Un appello alla piena collaborazione istituzionale a protezione di un territorio, quello regionale, la cui collocazione lungo la rotta balcanica lo espone a notevoli rischi sia sul fronte della sicurezza che nel contesto dell'emergenza epidemiologica della salute pubblica. Un intervento dell'esecutivo nazionale appare dunque indifferibile secondo il Governatore affinché gli importanti risultati raggiunti in questi difficili mesi non vengano vanificati dall'insorgere di nuovi focolai di importazione. Maxi sequestro di carburante di contrabbando lo hanno eseguito le fiamme gialle di Trieste che hanno seguito un tir fino a Roma ma è lì che hanno scoperto un capannone abusivo per lo stoccaggio, due le persone indagate. 40.000 litri di carburante per autotrazione, due autobotti e un deposito clandestino a Roma. È il bilancio di un sequestro eseguito dalle fiamme gialle di Trieste che hanno fermato e indagato due persone. Al valico di Fernetti era stato notato un tir con targa austriaca proveniente dalla Slovenia che è stato pedinato fino a Roma e da lì a Capena dove è entrato in un capannone senza insegne. L'autista del mezzo di nazionalità slovena e il suo complice romano sono stati fermati per contrabbando. Il settore della distribuzione dei carburanti è un comparto fondamentale e strategico per l'economia nazionale con un valore che si aggira attorno ai 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo e che occupa circa 80.000 lavoratori tra titolari, collaboratori e dipendenti con oltre 22.000 impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali. Tragedia a Carlino intorno alle 21.30 di ieri in una nota azienda agricola. Un uomo di 59 anni è rimasto vittima di un malore, probabilmente un infarto, ed è deceduto sul colpo, inutili purtroppo i soccorsi. L'assalma è stata affidata ai parenti, ottenuto nulla osta da parte del magistrato di Turo della procura della Repubblica di Udine. Tentativo di intrusione dei ladri, questa notte al consorzio agrario di Rivignano Teori, malviventi hanno tentato di forzare una porta ma non sono riusciti nel loro intento perché è scattato l'allarme, la sirena le ha fatti desistere del loro intento sul posto dopo pochi minuti, intervenuto il personale della vigilanza Mondial Pol. Esce di strada al volante della sua BMW, poi al momento dei controlli, lo trovano con valori più di quattro volte superiori al massimo consentito e per questo motivo che il conducente, un 45enne di Nimis, durante la contestazione dell'illecito che prevedeva il ritiro della patente al sequestro della vettura, si è scagliato contro i carabinieri della compagna di Cividale del Friuli, intervenuti per i rilievi. Scena da film, quella verificatasi ieri nel Duomo di Palmanova, dopo essersi avvolto del nastro adesivo, al contrario, torna la mano, un uomo l'ha infinata nella cassetta delle lemosina, girandola accuratamente all'interno per alcuni minuti, per farvi attaccare tutte le monetine presenti. Due carabinieri in borghese, appostati sui banchi, come due fedeli raccolte in preghiera, si sono alzati e lo pizzicano sul fatto. E tutto era partito dalla segnalazione del parroco, che in più occasioni aveva riscontrato a manchi nelle offerte. Il presule ha controllato le telecamere della chiesa, notando un uomo che si intratteneva a lungo davanti alle casette. I carabinieri di Palmanova hanno avviato subito le indagini, hanno recuperato interamente il bottino, che stava cercando di sottrare circa 50 euro, non così magro se si considera che ormai per lui era diventata un'abitudine quasi quotidiana, quella di utilizzare la cassetta delle lemosine come fosse un banco. Un 53enne del luogo, nulla facente, è stato denunciato a piede libero dalla locale procura per furto aggravato e continuato. Siamo alla notizia di Fincantieri, l'85% i croceristi hanno dichiarato l'intenzione di voler tornare a viaggiare ancora, nonostante il Covid-19. Una buona previsione di ripresa, quella che emerge dal sondaggio che UBS ha fatto lo scorso mese di maggio, al centro del nuovo rilancio, di conseguenza Fincantieri, il nostro core business, ha detto Giuseppe Bono, rimane la costruzione navale, siamo leader mondiali nella costruzione di navi, da crociere di navi militari di superficie Fincantieri, ha diversificato la produzione, avremo molte opportunità in futuro, dice l'amministratore delegato, il gruppo è stabile, lo confermano i piani di riconsiderazione, di consegna delle navi, che sono contenuti tra 4-5 mesi. Aggressione in piazza Risorcimento a Pordenone, un ragazzo colombiano, brandeggiando un collo di bottiglia rotto, ha cercato di colpire al volto e al ventre un giovane con nazionale disarmato, che è riuscito fortunatamente a difendersi, utilizzando il suo zaino come scudo, sul posto intervinto dalla polizia locale, scesi dalla vettura, gli agenti della municipale, sono frapposti fra i due contendenti, nonostante gli inviti a calmarsi, l'aggressore si è poi scagliato anche contro gli stessi uomini della municipale, che hanno quindi adoperato lo spray al peperoncino, una scelta che ha permesso di neutralizzare l'azione violenta. A su Porto sono poi arrivate anche due pattuglie della Polizia di Stato, il trentenne residente a Pordenone è stato portato al comando di Polizia locale, dove è stato indagato per esistenza a pubblico ufficiale e minacce. Andiamo a Udine, in via Quileia, in barba chi afferma che non è sicura ed è degradata, gli esercenti della zona si sono attivati per far rivivere il borgo. A Udine, in via Quileia, si vive in un contesto con grandi potenzialità. La via è una strada sicura, molto elegante e per nulla degradata. Così è esordito il presidente di Confesercenti, Marco Zoratti, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dei prossimi eventi che sono stati organizzati nel borgo, tra i quali il Vespa Raduno di Ferragosto. Via Quileia ha deciso di puntare su piccoli eventi di richiamo all'insegna della musica dal vivo, dei concerti abbinati a cibo e cultura, mercatini, esposizioni, animazioni e giochi per bambini. Iniziative che si inseriscono nel più ampio contesto di Udine sotto le stelle, questo progetto che ormai va avanti da metà giugno, che sta riscuotendo sempre maggiori consensi, sempre più adesioni. Adesso si sono aggiunti anche altri borghi e vie storiche della città, quindi diventa veramente un modo alternativo per passare a fine settimana, in un momento in cui c'è una grande attenzione sempre al discorso di rispetto delle norme anti-Covid. I fondi europei siano trampolino di lancio per le aziende innovatrici. Sergio Barel, presidente di Comet, il cluster della metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, indica questa via per il rilancio del comparto dopo l'emergenza Covid. Secondo Barel, i finanziamenti a pioggia non permetterebbero di sfruttare appieno le risorse. Per il presidente, la nuova legge regionale di rilancio dell'economia, attualmente in via di definizione, prevista per fine anno, rappresenta un'autentica opportunità per dare impulso alla ripresa. La metalmeccanica rappresenta il 43% delle aziende manifatturiere della regione, con circa 3.800 aziende e 58.000 lavoratori. Produce un volume di esportazioni pari a 5,8 miliardi l'anno. È evidente che il momento è decisivo, dobbiamo giocare bene le nostre carte per compiere il balzo in avanti che il comparto può e deve avere sostene Barel. Dobbiamo ragionare in termini di merito, aggiunge. Dobbiamo dare respiro a chi saprà innovare, rifocalizzare il proprio business in ottica 4.0 ed esplorare diverse modalità di sviluppo per far fare un salto di qualità al business. Uno degli insegnamenti della pandemia è che in pochi giorni sono state fatte cose prima giudicate impossibili. Dobbiamo pensare in grande, non due, ma dieci volte più grande. Non è ancora tempo di bilanci, ma alla Tisana, un anno dall'apertura del punto nascita, sono stati registrati 540 parti, c'è grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale. Per l'assessore alla salute Luca Abriole, un dato positivo considerando che l'andamento delle nascite viene stabilito nell'anno solare. Un anno importante, però non è ancora tempo di bilanci. Ricordiamo infatti che l'indicatore dei 500 parti annui è riferito all'anno solare. Quindi siamo fiduciosi dal feedback che abbiamo che possa essere raggiunto l'obiettivo dei 500 parti entro il 31 dicembre 2020. Al momento quanti parti avete raggiunto come numero? Ad oggi sono 540 i nati, sempre più mamme, sempre più donne decidono di venire presso la nostra struttura, che quindi si conferma struttura d'eccellenza per il nostro territorio. E questo giustifica anche le battaglie fatte in passato. A proposito di battaglie, per chi ancora non crede nell'apertura del punto nascita di La Tisana, considerando i dati di oggi, che cosa vi sentite di dire? I dati di oggi, ripeto, giustificano le scelte fatte. Ricordo poi che c'è una legge regionale, la legge regionale 9 del 2019, che adesso stabilisce quelle che sono le funzioni nell'ospedale di La Tisana e quelle di Palmanova. L'ospedale è un ospedale unico e quindi credo sia arrivato il momento da parte di tutti di lavorare insieme per il rafforzamento di tutto l'ospedale. Quello che è importante comunque è gli elementi positivi che abbiamo, l'attrattività extra regionale, e questo dimostra l'importanza dell'ospedale di La Tisana nel contesto regionale. Sarà un altro fine settimana intenso per Magliano con il suo sessantesimo festival, che ogni anno porta nomi importanti della musica italiana e internazionale. Sara Corini, storica segretaria della Pro Maiano. Un altro fine settimana intenso da raccomandare a chi vuole vivere delle belle emozioni. Domani sera abbiamo la Vasco History Band, storica band di Vasco Rossi. Vi aspettiamo numerosi. Domenica avremo sempre la passeggiata con la strada dei vini e dei sapori. Il pomeriggio ci saranno i giochi per i bambini. La sera la cover del Canzonessimi in piazza a Maiano. Vi aspettiamo. Siamo tutti molto orgogliosi di come sta andando la festa. Siamo al primo fine settimana. È andato molto bene. Il premio Pro Maiano anche. E noi siamo sempre che vi aspettiamo tutti quanti felici. Sara, in quanti state lavorando per questa sessantesima edizione del festival? E quest'anno c'è molto più personale. Quanto per il Covid il personale è quasi stato raddoppiato. Saremo in 200-300 tutti i volontari che anzi ringraziamo vivamente perché grazie a loro che questo festival sta andando avanti. E poi si va avanti fino a quando? Allora, il festival poi continuerà la settimana dopo. L'ultima serata sarà il 16 di agosto che ci sarà il Galao che canteranno però al 15 avremo la serata, quella di la beneficenza con Vepower che sarà tutto il cavato dato all'ospedale di Udine. Ovazione ieri per mister Luca Gotti al Bearzi. I bambini e i ragazzi che partecipano al centro estivo hanno avuto l'occasione di incontrare il tecnico dell'udinese. Lo hanno accolto con applausi e cori accompagnati dall'inno della squadra bianconera. L'allenatore accompagnato dal consigliere comunale Giovanni Govetto ha salutato le decine di ragazzi radunati nel cortile dell'istituto salisiano sfidando davanti a loro e fermandosi a più riprese sorridente e rilassato. Pur non essendoci stata l'occasione per foto e autografi i ragazzi sono stati entusiasti dell'incontro hanno mostrato a distanza il loro affetto allenatore che ha condotto alla salvezza l'udinese. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea e il telegiornale torna alle 16.30. Buongiornata. Buongiornata. Buongiornata.